E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e una notizia sensazionale. Maxis di Animus è riuscito a tradurre le scritte, le rune antiche che sono scritte sul misterioso portale che abbiamo visto nell'Ubisoft Forward. In pratica come potete vedere da questo screen hanno tradotto in inglese una frase di Loki, ovvero che cosa hai fatto? The Mad One, ovvero il forsennato. E' il termine con cui spesso Loki chiama Odino e quindi molto probabilmente questo ci suggerisce che succederà qualcosa di importante a Muspelheim. Come ben sappiamo Muspelheim facente parte di uno dei nove regni e come stato detto da Derby McDavid si trova nel Nord Africa, quindi dovrebbero rappresentare le divinità egizie. Ora, dove vorrei arrivare? Molto probabilmente Odino combinerà un qualcosa che farà arrabbiare gli dei egizi e quindi di conseguenza giureranno vendetta, attaccando poi Asgard. Anche perché nella stessa mitologia sappiamo bene che Kessurt, uno dei giganti di fuoco, assieme al suo esercito e la sua spada spiammeggiante, darà inizio al Ragnarok. Molto probabilmente questi dei egizi libereranno Ferrir e così si causerà il Ragnarok e così inizierà il Ragnarok, la battaglia definitiva con le truppe degli suigizi, le truppe di Hel e quindi finalmente vedremo questo Ragnarok. Ora, bisogna vedere due cose. Dove vorranno incentrarsi? Se si vogliono incentrare semplicemente solo su Muspelheim, molto probabilmente si incentreranno sul viaggio di Odino solo ed esclusivamente a Muspelheim. Altrimenti, se ciò non dovesse accadere e ci volessero far vedere i nove mondi, ho un'altra teoria che domani verrà pubblicata, che completa la teoria fatta oggi stesso, che è uscito il video alle 11 e un quarto che vi consiglio di vedere. Detto questo, ragazzi, io non so dove andrà a finire questo DLC Meteor, ma so per certo che avrà una storia davvero molto interessante. Dunque non ci resta altro che aspettare nuove notizie per poter fare delle conclusioni. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bello!